ciao fiorelline ciao fiorelline e siamo pure con i diamantini qua dietro oggi è arrivato shay ieri sono passate non abbiamo sentito suonare e allora ce l'hanno portata oggi però come sempre l'hanno buttata dentro il giardino rischiando che mi rompevano tutto i cani pure sembrano un po bucata a busta però non si è rotto niente i cani si vede se non sono corti meno male oggi come sempre come shay c'ho nicole che mi passerà le cose e vi ha salutato e via la sigla ci vediamo dopo ecco sono ritornata allora passami le cose mi passa le cose di pollo questo è un lenzuolo che già il materiale è buono mi piace c'è stata la cosa del natale si dai la cosa del natale questo è un lenzuolo solo il pezzo sotto è un lenzuolo un matrimoniale e non metto i occhi non metto i occhi non vuoi avere scuole devono vedere dopo tu dici che dei metri eh nanananana ora tu ti metti sopra roba qui così dai dammi quello che hai detto questo qui perchè non mi hai detto non metti quello che passi questo è l'orecchino l'orecchino che avevo comprato con l'altro pacco che mi avevano mandato uno perché io pensavo era una coppia invece era uno solo sarebbe aspettate che apriamo compiegato qua aprire è l'orecchino che avevo comprato a Rachele con la R e mi avevano mandato uno solo e l'ho comprato un altro così fa la coppia con la R Rachele Rachele Poi cosa mi passi? questo qua questo che mi ha passato Nicole è c'è una storia allora il carino gli volevo comprare una felpa ha detto no io ce l'ho la felpa che è qua e l'ho comprata uguale questa è la felpa da parte dell'uomo ragazzo uomo le felpe ah io c'ho tante felpe poi questa qui butta super caldo e adesso siccome domani io quando sto a registrare il sabato non so quanto lo metto questo qua e domani è andata la mia sorella vi farò vedere che faccio il video eh domani me la metto prima non la voleva e poi mo la mette subito ok questo che mi ha dato Rachele Nicole è di Rachele mi sono sbagliata mi sono sbagliata questo è hmm ranetta Rachele lei porta XL questo è un po' L eh il po' L e tu mi hai detto XL questo l'ho messa per il mio vabbè io come ho detto porta la L però io compro XL vabbè questo è molto carino ma che la carta ma bella è questo vestito io già la vedo Rachele è bellissima ui questo vestito eh mamma mia carinissima io la vedo è bella è ranetta è bella ma già ti vedo Rachele ti vedo ti vedo che sei bellissima questo vestito beh questi sono i miei i miei cerchietti sì però stanno bene i cerchietti non mi stanno bene? sì ah e ciao a me c'è Nicola non mi stavano bene così se fregava uno e due due e tre allora proviamo questo qua sì wow stai bene il cerchietto cerchietto marrone marrone bello poi c'ho un cerchietto grigio 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 l'ho pagato due euro su tre cerchietti su cinque e bianco bello carino mettiamo tutti qua mettiamo tutti qua tutti i cerchietti guardate 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 sono belli perché sono pelosi sono bellissime bel capelli un po' mi sono messo il cerchietto ancora peggio come stavano messi così ma lo mettiamo io perché lo uso il cerchietto quando mi faccio lo spruzzo per lavarmi i denti se non mi vanno tutta la faccia un casotto allora io uso i cerchietti questi erano tre e mi piacevano se poi vorrei mettere da giro questo questo filo questo qua sono le cose da parte della cucina roba così che cico sono piccoli sono mini sono dieci mamma ma io lo sapevo erano piccoli sì che c'è proprio il lavandino roba così sì roba così e poi e poi a volta ci stanno tre rosa uno due tre cinque sei questi tre celestini sono sei e uno due tre e quattro verdi però i straccetti sono così che quelli non gli piaceranno sicuro senti che sono morbidi senti che sono morbidi mamma senti mamma mi ha carini carini ma ci stanno prende le più grosse stracci ho preso questi e poi per asciugare il lavandino e asciugare i fornelli sono dieci brava hai quasi chido godi chido ancora no 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 si ho preso brava hai quattro chido dai passa questo questo ce lo cosi che servono sempre sono rossi come vediamo che grande io ho preso quello più grande vediamo quanto è grande un po' troppo grosso l'ho preso è uno enorme l'asciucamano è grandissimo guarda la coppetta no è un'asciucamano ti ho paura che vengono piccoli guardate quanto è bello disegnate tutti i disegni poi ci stanno rosa ci stanno neri però a me è verde mi piaceva tanto questo è grande questo è grosso e fatta dolce enorme vediamo se c'entra questa busta io l'ho comprata stanno quelle che l'ho comprata da anni ancora sono belli e sono morbidi vero? voilà un po' troppo grosso questo invece è la scaldacollo perché sapete che io mi prendete mi prendete sotto un mardecula qua a casa sotto guardiamo la busta mamma mia e io la roba di scegli troppo bella guardate guardate così fuori così e dentro c'è la pelliccia c'è la pelliccia guarda vedi la pelliccia c'è bella 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 bellissima ah 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 aspetta e questo ok e poi questi sono i miei pantaloni i miei pantaloni che penso che ancora non si possono mettere perché sono superferpati dentro capite che più che altri questi ma senti questi? ma che c'hai da? senti quanto suetti? eh ah guarda quanto sono belli tanto che non li metto perché sono una cosa bellissimi sono sono elastici sono belli merdi e c'è la pelliccia ho preso questa ah ah sono felpati beh questi penso ancora felpati fa caldo per te belli belli blu a me sembrava che eravamo presi in altro colore però mi sono presi in blu però mi sembrava meri a me me l'avevo presi invece no un viola blu questi ah viola blu viola blu viola blu aspetta devo mettere a posto anzi Nicola è abbastanza calma perché questo è divertente a lui ok e io ho comprato delle orologi questo è il primo orologio io mi sono comprato due orologi due perché così questo si è staccato tutto a te un'altra scatola questo simile cassio c'è il bigliettino e questa marca qua sembra un casino sembra un casino funziona già sembra un casino un casino cioè pure una cosa dietro non so che è sempre un casino è subacqueo pure subacqueo questo cosa vuol dire che è questo mettiamo a posto dopo sennò ci vuole tempo per metà posto beh questo invece l'ho comprato per rachere sempre un orologio rosa più grande del mio eh ah vabbè dopo lo stacca rachere la marca è questa qua e l'orologio del subacqueo pure questo qua chissà se si cambia accettolino non lo so vabbè questa è della Kennedy l'ultimo orologio fantastico l'ho pagato 12 euro ma è super fantastico bellissimo piace tanto guardate sta dentro questa busta questa bustina qua la che si sfida questo può essere un regalo fatto così la scatolina è così c'è questa cosa qua potrebbe essere proprio un regalo possa dentro questa confezione qua quelle che sono morbide bello coloro caro dentro questa bustina e questo è il mio nuovo orologio guardate che bello questo è subacqueo qua non so se si vede si vede la data questa c'era d'oro c'era dorato o c'era d'acciaio con cosa dorato dentro d'acciaio così con d'argento dentro o c'era c'era avana dentro e così l'ho comprato bianco e così bello lo mettiamo subito leviamo questo che mi aveva prestato un pochino un pochino questa c'è la carta intorno dove va vabbè la carta è molto bello questo orologio si si mi piace tantissimo saperlo allacciare però vabbè ecco l'acciaio così lo devi piegare allacciato e vai bello 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 me lo lascio subito ok pure oggi l'abbiamo finito questo video spero che vi è piaciuto delle mie cose vi è piaciuto di più qua sotto e ciao al prossimo video vi do la saluta ciao ciao fiorellini dai ciao fiorellini ciao fiorellini ciao